La produzione industriale italiana conferma le attese positive e cresce nel secondo trimestre con una dinamica analoga a quella rilevata nel primo, nonostante il forte calo di maggio e grazie al recupero stimato dell'1,3% a giugno. Il sostegno viene soprattutto dalla domanda interna, è quanto rileva il Centro Studi di Confindustria in un'indagine rapida sulla produzione industriale. Favorita dall'allentamento delle misure di contenimento del Covid-19 è ripartita la spesa delle famiglie, la componente finora più debole della domanda e tassello mancante nel puzzle della ricrescita. Gli imprenditori continuano ad essere ottimisti, nonostante i timori di un possibile impatto negativo della cosiddetta variante Delta sull'andamento dei contagi. Numeri da record per la quarta edizione della Giornata delle Proloco d'Italia. Sono state 843 le iniziative organizzate in tutta Italia, una festa che ha animato la penisola con sagre, mostre, presentazioni di libri, seminari e convegni, mercatini, manifestazioni sportive, eventi musicali, rassegne cinematografiche e teatrali. Una grande giornata, una grande soddisfazione per un risultato veramente incredibile. Oltre 800 eventi, oltre 800 Proloco collegate con noi per vivere questa entusiasmante giornata in un momento come quello che stiamo vivendo post pandemia, momento di grande gioia, momento di riprenderci le piazze. La giornata è stata scandita da una diretta trasmessa sulla pagina Facebook dell'UMPLI, dalle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio UNESCO. Un percorso partito dall'inizio dell'anno, da qualche mese, abbiamo iniziato a lavorare appunto con tutti i collegamenti, con tutte le regioni d'Italia, con il gruppo razionale di lavoro, ma anche il modello organizzativo che abbiamo messo in atto appunto dalle regioni, con i responsabili, con i referenti regionali, affinché si attivassero per portare nei luoghi, insomma nelle territori locali quello che era la partecipazione appunto per aderire alla giornata nazionale delle Proloco che ha portato a questo grande risultato quest'anno. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene quest'anno sono sulla tessera del socio delle Proloco d'Italia come sito UNESCO e quindi tutte le Proloco d'Italia, tutti i soci, tutti i volontari hanno questa tessera con questa immagine di queste splendide colline, quindi per noi è stato un piacere, un onore ospitare questa giornata. Un viaggio all'insegna dello Slow Tourism attraverso l'Italia per incontrare una delle eccellenze che rendono il Made in Italy famoso a livello internazionale, il vino. Il tour porterà Vittorio Brumotti in sella alla sua bicicletta in giro per la penisola. Ad accompagnarlo Ludovica Casellati, Lady Bici, direttore di ViaggiinBici.com. Stiamo parlando di percorsi per la bicicletta attraverso le cantine più top del mondo. Oggi ci sposteremo verso il Barolo, andremo a conoscere le Langhe, il Barolo, poi i Roccesi in Liguria, poi passeremo per le Cinque Terre, andremo a Bolghi, la Sassicaia, Ornellaia. Immaginate pedalare, mangiare bene e alla fine bere responsabilmente un buon bicchiere di vino rosso e chissà quante storie ci saranno, dunque seguiteci. Sulle strade dei vini eccellenze d'Italia percorrerà la penisola alla scoperta del patrimonio enogastronomico delle regioni. In ogni regione una tappa del viaggio associata ad un vino. L'iniziativa è realizzata grazie al sostegno di Intesa San Paolo. Intesa San Paolo ha costituito circa due mesi fa una nuova divisione dedicata all'agribusiness. E' stata costruita e costituita su Pavia, nelle dolci colline dell'oltrepo paese, proprio per incominciare un'azione di supporto su base nazionale a tutto il comparto agricolo. Si parla tanto di sostenibilità, ma la sostenibilità è quotidianità, è mangiare bene, bere bene, rispettare il proprio corpo e la propria anima. In più parliamo di territorio italiano, del nostro genius faber, della nostra capacità di essere unici al mondo. Noi sull'agribusiness occupiamo circa come forza lavoro italiano 1,4 milioni di persone. Per cui immaginiamoci l'importanza che ha sul PIL nazionale, circa il 15%, sull'export. Ma i nostri grandi produttori di vino, ma in generale le nostre eccellenze agroalimentari e, lasciatemi dire, anche culturali e di ricettività, hanno bisogno di un sostegno. L'economia è in ripresa e le aziende stanno incominciando a produrre e a fare profitti come nel periodo antecedente al Covid. Però dobbiamo dire che si sono anche fortemente indebitate nel periodo della pandemia. Sostegni e ristori non sono stati sufficienti. Dal primo settembre bisognerà pagare tutte le tasse sospese. Noi ci auguriamo che lo Stato propenda nel rateizzare in oltre dieci anni tutto quello che è stato sospeso. Altrimenti ritemmiamo la cosiddetta moria dei pesci.